Ciao a tutti, ben ritrovati, siamo qui subito di nuovo nella piattaforma scarchistica di recesso. Oggi gioco con un tempo di 5 minuti più 3 secondi. Come vedete ho un elo molto basso, 1.604 punti per me, con un punto interrogativo. Questo significa che sono le prime partite di questa è cadenza blitz nella piattaforma scarchistica di recesso con questo nuovo account scacchi per tutti. La prima mossa che ho giocato è il cavallo f6, dopo i 5 il cavallo ripiega al centro, siamo nella posizione principale dell'apertura a Liekin. Lui mi attacca e io mi ritiro. Qual è l'idea del nero? Perché sembra un'apertura disastrosa, sposta il cavallo, mi attacca, sposta il cavallo, lui conquista il centro e io ho soltanto mosso il cavallo. Ok, l'idea del nero è un po' come lo paragono al calcio, nel senso io cerco di farmi attaccare perché poi con il contropiede che realizzo magari ho la possibilità di raggiungere facilmente il gol, il mio obiettivo. Anche qui l'idea è cercare di far prendere spazio perché poi attaccando bene questi pedoni e lo faccio immediatamente con la spinta in d6, il suo controgioco potrebbe essere, comunque la sua posizione lì al centro potrebbe essere spiacevole. Ok, cavallo f3 sostiene il centro e alfiere g4 gli toglie questa variabile. In questo caso potrei già probabilmente puntare a un finale perché io potrei catturare qui, poi li catturo qua e a quel punto cambio le donne. Intanto io prendo così per mostrarvi quanto possa essere semplice giocare queste posizioni. La cattura di cavallo è quella che immaginavo e dopo alfiere per i2 e chiaramente re per i2 è da escludere, donna per i2 è necessaria però come vedete il bianco si è incartato un po' con i suoi pezzi perché dopo donna per i2, donna per i4 silenziosamente guadagna un pedone. Invece no, gioca la creativa necessaria per mantenere parità materiale, re per i2. E come immaginate è una mossa decisamente strana. A questo punto cosa faccio? Il cavallo è il suo pezzo migliore, quindi cambiarlo può essere interessante, scacciarlo può essere interessante, come lo cambio? Probabilmente ho un cavallo di7. Ho ancora tempo per provare e a sfruttare questo suo re al centro. Quindi a proposito gioco cavallo di7. In caso di cattura donna per e portiamo questo re in una situazione più attiva. Se lui non mi cattura probabilmente potrei catturare io cercando di riproporre magari delle idee tattiche perché occhio che il suo cavallo lì al centro della scacchiera è anche il difensore del punto c4. Quindi se eliminato potrei pensare di manovrare per catturare questo pedone. C5 per lui. C'è da dire che nella variante di prima, adesso vi mostro questa idea, se io catturassi, lui non mi cattura, e io giocassi istintivamente cavallo per c4, donna scacco sarebbe un gran problema perché mi catturerà immediatamente il mio cavallo. C5 giocata, casa debole libera, quindi potrei occuparla, non vedo controindicazioni in cavallo di5 e la partita inizia. Il suo re stona come potrebbe risolvere questa posizione creando quello che si è una rocca artificiale. Quindi passa la torre, nasconde il mio re e poi la partita continuerà. Cosa potrebbe far lui? Probabilmente una mossa di sviluppo che sembra un po' spontanea in altri casi come cavallo c3 è interessante, però il problema di cavallo c3 è che dopo che cambio un cavallo, ok, si è verificata proprio cavallo c3. Questa posizione la consideravo molto brutta per lui. Cambio un cavallo, scacco, cambio un altro cavallo, e come vedete i suoi pedoni sono molto brutti. Nell'immaginario di vedere, o comunque pensare a dei pedoni brutti, probabilmente potremmo rispondere, ok, i pedoni brutti sono questi. E6 attacco il pedone, voglio guadagnare materiale. Il primo che cambia sulla colonna D, il primo che cambia le donne, è colui che prende il controllo della colonna. Quindi lui cambia e io riprendo. A questo punto il pedone c5 soffre e sotto attacco. Cosa importante, e anche dettaglio interessante della posizione, è che i suoi pedoni sono bloccati su casa nera. A tal proposito, se io li attacco, l'obbligo nuovamente a posizionare pezzi su casa nera. E questo facilita tantissimo la mia strategia. A questo punto, perché è importante obbligarlo, può comunque cercare di fargli posizionare pezzi su casa nera, perché quando lui posiziona pezzi su casa nera, il suo alfiere ha meno diagonali sulle quali giocare. Torre B1 considero interessante, B6 necessaria. In caso di cattura il mio pedone riprende verso il centro, e questa colonna A cercherò di utilizzarla per l'altra torre. Essendo in... siamo in finale, siamo in finale... è vero che lui ha tolto il pedone doppiato, però siamo in finale dove da nero sono abbastanza soddisfatto, perché comunque sia c'è ancora una debolezza da sfruttare. Alfiere C5 sembra istintiva, però purtroppo per me, purtroppo per il nero, C4 darebbe noia, perché su C4 la torre andrà via, lui mi cattura, e poi alla fine la posizione cambia, magari sarà lui a stare un po' meglio. Dunque, a tal proposito, si punta alle debolezze. Quindi, torre A5, attacco il pedone. Alfiere qui, attacco la torre. Dunque, sto cercando di accelerare il mio sviluppo. A questo punto, R7, e si continua. Ok, R7 effettivamente sì, ho dato questa possibilità. Ok, torre C8... sono stato un po' impreciso con questa R7, si poteva far di meglio. Adesso sono costretto a giocare torre C8 per evitare che torre D7 sia una mossa forte e impegnativa. In caso di torre D7, il mio re si nasconde in E8, controllo tutti gli ingressi, o comunque sia anche la prossima. Senz'altro il mio re lo sposterò su casa bianca. Mi muovo molto meglio sulle case nere, e allora cerco di mantenere questa condizione. Quindi il mio re andrà in E8, l'alfiere in C5. Ok, l'alfiere potrebbe andare in C5. Proponendo il cambio, l'alfiere potrebbe andare in E7. Ok, intanto Re8 la gioco senza alcun problema. Quel torre C8, dettaglio importante, altrimenti torre per C7 sarebbe stata decisiva. Ricordate che le due torri sulla settima traversa, le torri sulla settima traversa, sono molto forti. Sono così forti che due torri posizionate sulla settima traversa, tagliando, vincolando il re avversario al bordo della scacchiera, compensano comunque sia, sono così forti anche nei riguardi di un pedone o due pedoni meno. Qui c'è una tattica. C'è una tattica che sfrutta il fatto che lui abbia le torri che si difendono tra loro. In particolar modo questa torre in D2 che ha un ruolo passivo. Si dice che la torre sia in sovraccarico perché se facciamo attenzione deve difendere a 2. Ok, a 2 non è attaccato. Ma cosa importante, deve mantenere il contatto con la torre in D7. Quindi se io gioco questa mossa come alfiere C1, cosa faccio? Libero l'attaccante su A2 e questa torre si deve spostare. Comunque si dovrà spostare probabilmente in D3 o in C1. Ok, ho guadagnato il pedone perché non ha assolutamente modo per difendere entrambi i punti. Quindi il tema di questo video potrebbe essere il sovraccarico. Anzi, sì, darò senz'altro questo titolo per riassumere il problema della posizione del bianco. Dopo alfiere C1 la torre dovrà andare via. Immagino che vada in D1 semplicemente per una questione di obbligare le mosse del mio avversario, ma in realtà poi analizzando meglio i pedoni che perde saranno due, perché uno è questo. In quel caso anche il re sarà in sovraccarico perché quando si sposta in F3 o difende G2, ok, facciamo di giallo. Quindi quando il re si sposta qui o difende G2 o difende 3 e quindi dopo il cambio il re si sposterà. Scacco intermedio, re F3 è quella che mi aspetto e su alfiere 3 si ripropone esattamente lo stesso problema. Il re in sovraccarico o difende G2 o difende 3, chiaramente l'alfiere bisogna riprenderlo e dopo torre per G2 i pedoni in più sono due con ottime opzioni di catturare anche il pedone H. Arriva l'abbandono, questa è stata una partita molto interessante e poche mosse, rivediamola. Quindi apertura a Liekin e in questa apertura a Liekin come dicevo il nero provoca il bianco nel senso che cerca di cedere spazio per poi avere il controgioco. Questo controgioco il più delle volte è semplicemente mantenendo un contatto tra il proprio pedone e il centro avversario. Quindi questa mossa di 6 è interessante per aggredire rapidamente il centro avversario. Alfiere G4 sulla scacchiera, alfiere 2, però alfiere 2 come vedete anche il signor Lices non la considera una buona mossa perché dopo le catture si raggiunge la posizione spiacevole della partita. Donna per i due potrebbe essere una possibilità, però il problema è che dal punto di vista materiale il nero ha una posizione superiore, un bel pedone in più centrale che nessuno potrà più recuperare. Quindi il re per i due e cavallo d7 cercando di cambiare il pezzo più forte qualcuno diceva sempre combatti il pezzo più forte ed effettivamente questa frase storica della scuola scacchistica rossa è abbastanza veritiera. Quindi ogni volta che voi individuate un pezzo forte al vostro avversario, beh, togliamoglielo. Quindi cavallo d5 e dopodiché si entra in questo finale inferiore perché la torre va qui guadagna spazio. Molto interessante per lui f4 perché sul alfiere per c5 ci sarebbe lo stesso tema tattico che si poteva verificare in partita. Quindi questa c4 attacca la torre, la torre deve andare via e l'alfiere risulterà essere perso. Se io catturassi qui, chiaramente lui mi cattura in d5. È vero che io posso catturare pedoni quindi un po' di compenso c'è. Tipo lui mi cattura, il ricatturo, mi rifaccio sul pedone centrale alla prossima mossa e come vedete è una partita con degli squilibri. Proseguendo è andato in questo modo, torre a 5 attaccando la debolezza, questa qui alfiere a 3 guadagnando il tempo e adesso ho giocato re7 e in realtà non sono molto soddisfatto di questa mossa. Probabilmente c'è di meglio. Forse alfiere c5 immediata poteva essere un modo per legare un po' di più i pezzi del mio avversario. Comunque re7, torre d1, torre c8, torre d7 punto interrogativo, punto esclamativo, mossa dubbia perché effettivamente dopo torre d2 alfiere c1 risolve. Ok, spero di avervi dato anche in questa occasione qualche dritta, in questo caso abbiamo visto l'apertura di Hekin e appuntamento alla prossima.